I giardini Giuseppe Bracci in Viale 12 Settembre a Fano, adiacenti all'Istituto Superiore Battisti, nelle loro dotazioni principali versano in uno stato di degrado e di incuria. Ad agonizzare da diversi anni sono proprio i giochi e le panchine che mamme piccoli al seguito utilizzano per qualche ora di svago. Oltre all'immagine poco edificante che rappresentano della città, verso persone che vengono da fuori, essendo sul tragitto utilizzato da pendolari e viaggiatori per arcarsi in centro verso l'ospedale cittadino, potrebbero rappresentare un pericolo per chi ne utilizza le strutture. I segnalatori ci evidenziano lo stato in cui versano le panchine in legno, deturpate e notevolmente danneggiate in più punti con pezzi mancanti e cosa non da poco in una di esse pericolosissime viti arrugginiti sporgenti all'altezza di bambino. Finirci di faccia potrebbe causare profonde ferite. Ma anche una struttura per il gioco, sempre in legno fortemente usurato, è utilizzata al meglio da non si sa chi come sicurezza per la propria bicicletta, con tanto di catena in acciaio squadrato lasciata lì chiusa. Anche questa un vero tocca sana per i più piccoli. Oltre a non avere nessun tipo di riparo o tappeti anticaduta sotto i giochi, ma solo la nuda e dura terra, anche le radici degli alberi circostanti ci hanno messo la loro, sporgendo di parecchio ormai dalla buca scavata nella terra sotto le altalene e i tavolinetti, cosa che sistematicamente fa inciampare i più piccoli utilizzatori. Ma anche la casetta con lo scivolo non gode di salute migliore e mostra tutti gli anni che ha. Nonostante siamo nel cuore della città, lo stato di queste strutture è solo un insulto alla decenza. Qui siamo distanti anni luce dalla modernissima area giochi del nuovo parco urbano inaugurata di recente al Vallato. Forse, oltre che inaugurare nuove strutture, sarebbe anche bene rendere aggiornate e fruibili in sicurezza anche le altre aree verdi pubbliche della città esistenti con un minimo di dotazione, tanto per non passare dalle stelle alle stalle.